... Wella ragazzi, ciao da Nikkei, bentornati qui sulla Nikkei Craft Allora ragazzi, ho visto un po' i vostri commenti riguardo magari al problema che abbiamo qui con la mongolfiera Uno di voi mi ha consigliato di creare una specie di, diciamo, una specie di, non so come chiamarla Tipo una specie di diga, insomma, per rimuovere l'acqua attorno alla mongolfiera E lasciarla senza acqua, magari forse questo mi aiuta un po' Quindi, sì, vorrei provare a togliere l'acqua tutta attorno alla mongolfiera E poi forse potrebbe anche essere, come dice qualcun altro, forse i airballon non sono sufficienti Perché comunque, comunque la mongolfiera come vedete è fatta tutta di lana Mentre il nostro, come si chiama, il nostro elicottero è fatto principalmente di airballon e basta C'è un po' di ferro, ci sta un po' di ferro Ma diciamo che si può dire che il nostro elicottero per il 75% è fatto di airballon Mentre la mongolfiera è parecchio fatta di lana, ecco E comunque la lana, anche se può sembrare leggera, non lo sappiamo Possibilmente comunque per il gioco pesa come può pesare anche il ferro, insomma Allora, il flow water qui ce n'è un po', ecco Potrei anche aggiungere un po' di flow water alla mongolfiera Ma forse il problema principale per l'appunto potrebbe essere il numero elevato di lana, non lo so Comunque vorrei provare, dobbiamo riuscire a far volare sta benedetta mongolfiera Quindi andiamo a prendere ciò che abbiamo in abbondanza E potrei anche prendere la terra Ok, che cacchio sto combinando, lì non si è capito niente, ok Allora, prendendo la terra proviamo a fare questa, non dica ma comunque prosciughiamo l'acqua attorno alla mongolfiera Ecco, detto così sicuramente ha un senso adesso Allora, cercare di rimuovere l'acqua attorno alla mongolfiera Magari ce la facciamo Ciò da mettere sti cosi tutti attorno Allora Quindi fatto questo raga In un modo e nell'altro Bene o male Abbiamo limitato l'aria in cui c'è L'aria in cui c'è per l'appunto l'acqua Adesso vorrei cercare di rimuovere l'acqua Qui non c'è molto spazio L'ideale praticamente è quello che Mo io sto coso lo vorrei togliere Ehm Ho preso un po' troppo Uai 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 Ecco Un edge Allora Spazio ne abbiamo Direi proprio di no Quindi mi serve Questo Perché Andiamo a prendere un po' di questi Quindi praticamente Mo raga L'intenzione è che Non ho Mi servirebbe Mi serve qualcosa in cui inserire i liquidi Le ali ancora vanno bene Sì ci vuole qualcosa in cui mettere questi liquidi Dove li mettiamo sti liquidi Ci vorrebbe tipo un altro drum Vabbè un drum oppure Come si chiama un altro coso Un qualcosa Aspetta qui sopra c'è Perché mo è da tanto raga E quindi non mi ricordo I tank Proviamo a fare Un tank Uh ne abbiamo già un paio Allora Qui mi ci vuole mo Che io Devo trovare Il sistema Di ciucciar via l'acqua Dobbiamo solo ciucciar via l'acqua Quindi fatemi un po' riflettere Ok quello scende Potrei mettere Questi qua Eeeh Poi Questo qua I tubi Dov'è che li ho Eccoli qua Non c'è basta Ce ne vuole qualcun altro Cerchiamo di trasferire quindi L'acqua che c'è lì dentro La trasferiamo qui in questi tank Ok dovrebbe funzionare Qui ci Qui diciamo In estrazione Adesso dobbiamo Semplicemente Alimentare il motore Ok quindi cerchiamo di Compar via l'acqua Dovrebbe funzionare Vediamo se ci sono Buchi Dalla quale può uscire Cioè non vorrei che ci sono Buchi E tira l'acqua dal mare Ma pare di no No pare che acqua di mare Non ne prenderà Ok quindi qua Sta funzionando Quanti cacchio ne ho Al momento acqua non ne sta Tirando fuori Ah ecco qua Vedete raga che sta Iniziando a Tirare fuori L'acqua Che c'è lì dentro Sai cosa Direi che qua ci mettiamo Il secondo motore Per Pompare più veloce Mangiamo Ok quindi speriamo Che riusciamo così A tirare fuori L'acqua Dopodichè Dovrebbe essere Più facile Spero Vedete che l'acqua Inizia ad abbassarsi Il livello Che l'acqua Piano piano Si abbassa Così almeno Mi pare Oh sì 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 Sta A poco A poco Raga Sta ciucciando Via l'acqua Va bene Difatti qui Teoricamente Mi dovrebbe dire Oh vedete l'acqua Che sta aumentando Due secchi Di acqua Ma quanto Ce ne va in tutto Sedici In tutto Sedici Sedici Secchi Mi pare Pure poco Vediamo Vabbè Facciamo così Raga Mentre lui Ciuccia Via L'acqua Mentre lui La ciuccia L'acqua Io direi Che Nel frattempo Per non Per non stare Lì A non far Nulla Andiamo un po' A continuare Il grattacielo Che da tanto Tempo Che non faccio Altri piani Abbiamo Del marble Sai che il marble Non sarà mai Sufficiento Oh ce ne è Marble Ok Questo non mi serve Questi però Non mi servono Qualcos'altro Questo non mi serve Ok Giusto per fare Un po' Di sto coso Ok Vabbè Andiamo un attimo A vedere A che punto E dai Tanto abbiamo perso Del tempo Già solo Per raccogliere Un po' Di oggetti Perché mi sa Che sti 16 Cosi qua Vediamo Eh dai A poco a poco Il livello Dell'acqua Si abbassa Va Però già Qua si sta A riempire Non ci sarà Un modo Per Per Addirittura Rimane anche Un po' Vuoto Cioè un po' Pieno Ah no ma è 16 Ah è 16 Ognuno Quindi è 16 Per 3 Credo Intanto a me Ma pare Già quasi pieno Non lo so Da capista Così Una domanda A cui non so Dar risposta Come svuoto Poi sti cosi Ma fammi vedere Come si fanno Sti tank In caso li faccio E li butto Se sono semplici Vai Ehm Tank Quali erano questi Tank Ah Vabbè un po' Di ossidiana Ma che vuoi che sia Vai Sì andiamo a farli Vai In caso Tanto ossidiana Ne ho Un mucchio Quindi Glass Panel E ossidiana Allora L'ossidiana Vai Ne pigliamo un po' E i Glass Panel 22 Boh Andiamo Facciamo un po' Di sti cosi Quindi Com'era Così 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 Boom Ok Andiamo ad aggiungere Altri Tank Però Facili sti tank Vero Sono un po' Di ossidiana E hai Tank E sono pure Carini Infatti Già qua E' pieno Avanti Non riesco A capire La capacità Massima Non si riesce Granché A capire Però Comunque A quanto pare Ci siamo Dai No Vabbè Ancora un po' Ancora un po' Va bene Dai Lasciamo che lui Finisce Un attimino E io magari Riesco a farmi Altri Un altro piano Vediamo come Magari Tralasciamo un po' Alcune sezioni Ma Vorrei Tirare su un pochettino Il grattacielo Quindi dove ero rimasto E' arrivato Fino a qua Ok Se io Tralascio Tutto sto Sta roba Marble Credo che Poggia qua No Sicuramente Ma si 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 E' così Ogni volta E' da tanto Poi che non Lo faccio Che non Faccio Sti piani Che ci vuole Un mucchio Di tempo Le mie ali Sono finite Qui ci vogliono Le ali In ossidiana Le ali In ossidiana Che non c'ho Il coso Non c'ho Il tavolo Da lavoro Qui E non posso Farlo Mamma mia Comunque ragazzi Sto grattacielo Mi ricordo Ci ho messo Un mucchio Di tempo Per farlo Ed è molto Complicato Riusciremo A completarlo Con tutti Sti spazietti Qua Che ci stanno Li dovrei fare Off camera Tutti sti piani E mi toggo Il pensiero Forse Vero Li devo mettere Di santa pazienza E farli E togliermi Il pensiero Di fare sti piani Che ci vuole Troppo tempo Ma più che altro Il problema è che Non ho tutto Sto marble Mi è venuto Un'idea Ma perché Non ci ho pensato Prima Alla fine Colleghiamo Un altro Villaggio Mettiamo Un altro Venditore E il prossimo Venditore Vende materiali Da costruzione Non mi sembra Fatto una cattiva Idea È l'unico Modo Per completare Sto Grattacielo Ecco È pur vero Che è un po' Quasi come Barare Ma non lo è Perché comunque I materiali Li compro No? Con i soldi Così come abbiamo Comprato Ultimamente Un po' Tutto il resto Ecco Insomma Così Riesco un po' A completarlo Perché comunque La struttura esterna Per buona parte È completa Ecco Ho fido il marble Già Guarda Non mi è bastato Manco per fare Il primo piano Cioè Bacca al primo piano Non mi è bastato Neanche per fare Un piano Speravo di fare Più piani Ma Comunque mi piace L'idea di Mettere un altro Tizio Che vende Qualcosa E stavolta E stavolta Il tizio Vende materiali Da costruzione Mi piace Tanto oramai A questo livello Avanzato Ci può anche stare Ah Tanto oramai Perché ci siamo Tiro ancora Più su Sti cosi Sti cosi Ma anche se ne tiro Solo uno Dai Ma che me ne frega Vai Che ha finito Già le ali Vabbè che me ne frega Vai Dai voglio arrivare Fino in cima Va almeno Almeno un pilastro Ma ci siamo Eh La cima è parecchio alta Ragà La cima È molto Ancora Effettivamente Se notate Il grattacielo Non è completo Diciamo che ancora Ancora c'era Una piccola parte Mancante Ma a sto punto Per l'appunto Credo che per completarlo Principalmente il problema Sono sti Sti cosi Blu Di illuminazione Ma faremo in quel modo Lì Metteremo Un po' di cose Che li posso comprare Così lo riesco a completare Effettivamente Perché fino a questo punto È stato fatto tutto Senza barare ragazzi Magari qualcuno Non ci crede Ma il vetro L'ho costruito tutto E non è stato Tanto semplice Allora Andiamo a pian terreno Eh si Ci vuole Un paio di cose Che si possono comprare Sto grattacielo Lo finiamo Comunque Andiamo un po' A guardare Se riusciamo A far decollare Quel maledetto Quella mongolfiera Le ali Li ho già Rifini Ma che sto a dire Finite Detto semplice Li ho di nuovo Finite Allora Penso che a sto punto L'acqua Deve essere stata Tirata fuori tutta No Ce n'è ancora un po' Ce n'è ancora un po' Perché non riesce A tirarla Ecco fatto Dobbiamo far si Che tutta l'acqua Venga Rimossa Fammi respirare Ok Diciamo che Quanto meno Comunque C'è da aspettare Che viene tutto Ciucciato via L'acqua Per forza di cose Ancora non ci siamo Perché poi devo togliere Un paio di cose Quindi Piuttosto Vorrei andare a Completare Ancora un po' In altezza Un po' Di cose Visto che ci siamo Ci siamo quasi Vai Ok Mi tiro su Anche questo Preciso Vai E questo qua Raga Lo tiriamo su Almeno abbiamo fatto Un ultimo passaggio Diciamo Beh Ce ne vorrebbe ancora Ce ne vorrebbe ancora Ma per ora Ci accontentiamo Andiamo a vedere La situazione Con la mongolfiera Se riusciamo Finalmente Se finalmente Ci siamo Riusciti A tirar fuori Tutta l'acqua E poi Mi sa che Se non vola Il problema Sugli airballon Mi sa che Abbiamo fatto Il pieno Qui In questi Tank E' rimasta Niente Ok E' rimasta Uno sputo Di acqua Cosa che E' eliminiamo Così Allora Ma Non c'è più Acqua Non c'è più Acqua Lì Adesso Vediamo Di sistemare Questa Situazione Accidenti Ok Va bene Sto cosa Non si toglie Ok Sto cosa Dovrebbe Prima o poi Sparire Teoricamente Dovrebbe Sparire Allora C'è qualcosa Che voglio Buttare La lana La rimettiamo A suo posto Era qua Quindi Ragazzi Ecco Vediamo Un po' Qual era Oh mio dio Dove cacchio Vai No ma Comunque Strad Oddio E' vero Che Una volta Che la guidiamo Una volta Che la guidiamo Non bada Più ai muri No ma Comunque Non vola Lo spazio Eppure Poco Oh Ce l'ho fatta No Oh Finalmente Ok Sono riuscito A farla Un po' Mosa e fermata Insomma Non ne ho la più pallida idea Ragà Proviamo a mettere un altro po' Di airballon E poi Speriamo bene Perché io proprio Non capisco perché non vola Ho bisogno di altri soldi E compriamo altri airballon Deposito Soldi 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 Altri soldi Mannaggia gli airballon Archimede Soldi Airballon E che cavolo Perché non vuoi funzionare Li compro tutti i bianchi poi Allora un po' di airballon E un po' di floater So floater questi no? Stiamo Mannaggia non va bene Mannaggia non va bene Allora E qui mi sa che conviene Che ne so Che gli facciamo un rivestimento Anche esterno in airballon Airballon Ok Un piccolo rivestimento esterno Ok Un altro piccolo Rivestimento Ok Maledette le ali Ci vuole Accidenti le ali le ho finite No Questo qua Non ci stava Floater Ok Vediamo un po' Oh Finalmente Vola Mi sa che quindi E più che altro Mi sa che era una questione di floater Non tanto di airballon Ok Finalmente sto coso vola E finalmente vola 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 Oh non ci credo Quindi era più che altro una questione credo di floater Vediamo un po' Oh yeah Ragazzi La mongolfiera Adesso Vola Finalmente Va bene ragazzi Ci fermiamo qui Perché già ho sforato di non poco Il tempo Spero ragazzi Che questo gameplay vi sia piaciuto Ci siamo portati un pochettino avanti Commentate Come sempre Iscrivetevi Lasciate un pollicione su Ci perché abbiamo presto ragazzi Ciao alla prossima